Bisogna dare alla gente più tempo da leggere. Il 14 marzo 1972 l'editore Gian Giacomo Feltrinelli moriva vicino a Segrate, ai piedi di un traliccio, in seguito a un'esplosione. Le indagini ufficiali hanno sentenziato che stesse preparando un'azione di sabotaggio, ma negli anni si sono levate molte voci che raccontano versioni diverse e chiedono una riapertura dell'inchiesta. Un misterio italiano in piena regola. Feltrinelli è stato in ogni caso un personaggio unico nel panorama culturale italiano. Di famiglia molto ricca, si avvicinò giovanissimo alla sinistra rivoluzionaria, diventando figura di riferimento per diversi gruppi dell'area antigovernativa. Nel 1955 fonda la casa editrice che porta il suo nome, riuscendo a pubblicare in esclusiva mondiale il Dottor Zivago di Boris Pasternak, premio Nobel di lì a qualche anno. Nelle parole di Feltrinelli, il catalogo doveva coniungare ricerca e confronto di idee e volumi di qualità che corrispondessero alle esigenze di consumo del pubblico italiano. Insomma, un perfetto vademecum per l'editore moderno. Colto e carismatico, ebbe un rapporto stretto con Fidel Castro e pubblicò libri tra i più importanti del Novecento, tra gli altri Il Gattopardo e Herzog di Saul Bello. Oggi Feltrinelli è un marchio ancora attivissimo, sia come casa editrice che per le grandi librierie in tante città italiane.